Fratelli Israel e tutti ben ritrovati, ci prepariamo alla ventottesima domenica del tempo ordinario, meditando il capitolo 10 di Marco, dei versetti 17-30. Continua il nostro cammino alla scuola della liturgia. Gesù sta andando verso Gerusalemme, una meta che non indica solo il traguardo di un cammino, ma è simbolo, cifra, parametro di una vita. A Gerusalemme Gesù donerà la sua vita. In questo cammino veniamo educati da Gesù a fare della nostra vita un dono per gli altri. Ecco allora che Gerusalemme non è solo meta di un cammino, ma è stile, stimolo e simbolo di una scelta di vita. La prima lettura che è stata scelta è tratta dal libro della Sapienza, lì dove chiediamo a Dio una sapienza che viene dall'alto, capace di aiutarci a cogliere, a interpretare, a capire alla luce di Dio gli avvenimenti della vita. Tanto che nel Salmo canteremo insegnaci a contare i nostri giorni, Signore. Allora entriamo dentro il testo del Vangelo. Mentre andava per la strada, un tale gli corse incontro e gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò, Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Gesù gli disse perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti. Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare. Onora tuo padre e tua madre. La via, la strada diventa ancora una volta il luogo di incontro e il luogo di esperienza con Dio. Non solo dunque in sinagoga, non solo in casa, ma anche la strada, la piazza, le rive del mare, abbiamo scoperto, sono luogo di incontro con il Signore Gesù. Da lui dunque dobbiamo veramente lasciarci educare e, come abbiamo pregato nella prima lettura del Salmo, chiedere continuamente a Dio quella sapienza che ci aiuti a cogliere dentro i frammenti della vita quotidiana la sua presenza discreta ed amico per imparare sempre qualcosa di nuovo. C'è un tale dunque che corre incontro a Gesù, si inginocchia, lo chiama maestro buono. Gesù subito precisa che uno solo è buono ed è il padre del cielo. Non sappiamo chi sia questo tale, ma dagli altri Vangeli sappiamo che è un giovane e che è ricco. Due caratteristiche importanti che evidenziano lo slancio, l'entusiasmo di questo giovane che porta in fondo nel cuore i grandi ideali della vita, i grandi sogni e nello stesso tempo è ricco a molti beni. Gesù domanda che cosa vuoi e questo tale chiede la vita eterna. È una cosa bellissima perché è andato al punto e Gesù domanda ma tu conosci i comandamenti? E questo giovane li conosce tutti i comandamenti. Il testo del Vangelo mette in evidenza in particolare i comandamenti che si rivolgono al prossimo e l'amore al prossimo, il punto di partenza dal quale Gesù inizia il suo dialogo e questo giovane dimostra di conoscere i comandamenti, esprime la sua conoscenza. Allora Gesù gli disse una cosa sola ti manca, va, vendi quello che hai, dallo i poveri, poi vieni e seguimi e avrai un tesoro in cielo. Ma a queste parole egli si fece scuro in volto, se ne andò triste, possedeva infatti molti beni e Gesù volgendo lo sguardo attorno disse ai suoi discepoli quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. Questo tale conosce dunque i comandamenti, conosce, potremmo dire a memoria il catechismo, ha sempre fatto le cose belle, buone, è stato un buon uomo. Però gli manca quel passo in più, una cosa sola ti manca, va e vendi quello che hai. Uno sguardo, quello di Gesù, che non rinnega né tradisce. Tre verbi incontriamo che possono aiutare a cambiare la vita a quest'uomo, ma a cambiare la vita anche a ciascuno di noi. Va, vendi, dai. Va, è il verbo della missione, dell'essere stato scelto. È Dio che ti ha scelto, che ti ritiene degno. Vendi, è il verbo della scelta, della responsabilità. Dai, è il verbo dell'adesione a lui, del dono, della logica d'amore. Verbi che invitano a puntare l'attenzione su ciò che veramente conta, sull'essenziale. Non accumulatevi tesori sulla terra, dove tignole e ruggine consumano, perché dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. A queste parole, dice il testo, questo giovane diventa scuro in volto. Il rifiuto non viene dunque espresso a parole, ma con un se ne andò, col volto triste. Quel vuoto, quel santo desiderio che il ragazzo porta dentro, non riesce a fare il salto in più. Si limita al minimo indispensabile, alla logica dei comandamenti, a voler bene agli altri, ma non riesce a fare un salto. I discepoli, di fronte a questa scena, come tante altre volte, rimangono rattristati, sconcertati. E Gesù riprese e disse loro, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. Una volta la ricchezza era ritenuta un segno di Dio, un segno di benedizione, e i discepoli si ritrovano dunque confusi, smarriti di fronte a tutto questo. Gesù però indica la soluzione. Dio, è lui il tesoro più importante, è lui che rende possibile ogni scelta, è lui che colma di soddisfazione, di gioia, il cuore dell'uomo. Allora Pietro prese a dirgli, ma ecco, noi abbiamo lasciato tutto, ti abbiamo seguito. E Gesù gli rispose, in verità ti dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa, fratelli, sorelle, madre, padre, figli, campi, per causa mia e per causa del Vangelo che non riceva già ora, in questo tempo, cento volte tanto, in case, fratelli, sorelle, madri, figli, insieme a persecuzione e la vita eterna nel tempo che verrà. E' bello perché ancora una volta è Pietro che a nome di tutti prende l'iniziativa. Noi abbiamo lasciato tutto. Gesù non rimprovera, ma ancora una volta rassicura, indicando non solo il centuplo in questa vita, ma anche la vita eterna, quella che cercava quel giovane ricco. Dicevamo all'inizio che Gerusalemme non è solo una meta geografica, ma è simbolo del cammino della vita. Riassume in sé lo spirito con il quale siamo chiamati a percorrere il cammino della vita. La strada, così come il nostro cuore, è il luogo della semina, dove una parte dei semi cade nel terreno buono e una parte cade nel terreno non buono. Ebbene, Gesù non si lascia arrestare e processare per restare fedele al Padre, ma si lascia inchiodare fino in fondo per dimostrare la sua libertà. Verrà arrestato, processato, condannato, affinché il seme che il Padre ha posto nel suo cuore possa portare frutto al cento per cento e diventare segno e simbolo per gli altri, a dimostrazione che il Padre è fedele alle sue promesse, porta a compimento ogni cosa. Quello che manca al giovane ricco non sono dunque le conoscenze, la dottrina, ma quello che manca è la relazione, è il tu con cui vivere, con cui condividere il cammino. Come lui, anche noi talvolta spesso siamo pieni di tante cose, sappiamo, conosciamo tante cose, ma per gli affanni della vita, per le preoccupazioni materiali, rischiamo di soffocare ogni cosa. E allora non sono i beni quelli che ci mancano, ma il bene sommo che è Dio. Quel tale ha chiesto di avere di più. Gesù domanda al giovane di dare di più. Cambia la logica. Ecco perché ho bisogno di una sapienza che viene dall'alto, perché all'amore che chiama non si può che rispondere con un amore che dona. Di fronte a questa parola così impegnativa anche per noi oggi, siamo invitati a custodire la parola e lasciarci da essa purificare e guidare, ma anche chiedere a Dio questa grazia. La che fanno da sintesi ai testi che abbiamo appena accennato. Oddio nostro Padre, che conosci i sentimenti e i pensieri del cuore, donaci di amare sopra ogni cosa Gesù Cristo tuo figlio, perché valutando con sapienza i beni di questo mondo, valutando con sapienza i beni di questo mondo, diventiamo liberi e poveri per il tuo regno. Io invece rispondo con quest'altra parola. È una preghiera che ormai trovate raccolta in un volume, Il respiro della lode, edito dalla San Pino, che raccoglie le preghiere di tutti e tre gli anni liturgici. Signore Gesù, quante volte il mio cuore mi spinge a correre verso te. Ti raggiungo, mi lascio fissare e affascinare del tuo sguardo, ma poi anch'io, come il giovane ricco, triste ma lontano da te. Infondi in me, Signore, la sapienza che viene dall'alto, affinché impari a liberarmi di me per accogliere te. Signore Dio, di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto e fa che io non nasconda il mio a te, Dio mio e mio tutto.